Una serata intensa per incontrarsi, riflettere e gettare le basi per il prossimo Giubileo 2025. Giovedì 19 settembre, nell'auditorium Scavolini di Pesaro, si è tenuto il convegno di Metropolia Giubileo 2025 Pellegrini di Speranza. La serata, presentata da Virginia Ciarone, autrice di TV2000, è stata impreziosita dalla voce dalle note di Davide Scavolini, giovane musicista pesarese, e dai cento cantori delle corali della Metropolia che hanno presentato l'inno del Giubileo. Ad aprire il convegno, Monsignor Andrea Andreozzi, Vescovo della Diocese di Fano Fossombrone Cagli Pergola, che nel portare il suo saluto ai partecipanti, si è soffermato sul senso etologico dell'ancora agganciata al crocifisso presente sul palco. L'ancora, ha sottolineato il Vescovo Andrea, ha un significato ambivalente. Da un lato va tanto in basso, ci porta ai momenti più difficili della nostra vita, dall'altra ci permette di non essere distanti da colui che si trova lassù, e di vederlo legato a noi proprio perché, lui stesso, ha fatto così, si è calato in basso fino nelle profondità della nostra vita per morire con noi e farci risorgere. Il tema dell'andare verso l'alto è stato ripreso anche da Monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro Urbino, il quale ha voluto introdurre, a cornice del logo del Giubileo 2025, una mongolfiera, a significare proprio l'importanza del salire e dell'avvicinarsi al Creatore. Il Vescovo Andrea insieme è presente e ha poi letto la preghiera per il prossimo Giubileo riportata nell'opuscolo realizzato per la serata. In collegamento online, poiché le avverse condizioni meteorologiche non gli hanno permesso di poter essere all'auditorium e di questo si è scusato più volte, è intervenuto Monsignor Rino Fisichella, responsabile del Giubileo 2025 e proprio effetto del Dicastero dell'Evangelizzazione. Sollecitato anche dalle domande della conduttrice, si è soffermato sui segni del Giubileo. Il primo innanzitutto è l'annuncio del perdono e della misericordia, quello che noi intendiamo con una parola antica, un po' fuori modo, ovvero indulgenza. Come ci ricorda Papa Francesco, l'indulgenza fin dal VII secolo è sinonimo di misericordia, perdono, amore pieno che ci viene donato dal Signore attraverso l'intercessione della Chiesa. Quindi il primo segno è proprio l'annuncio della grazia e dell'indulgenza. Come ricordava Paolo VI, l'indulgenza è Gesù Cristo, è Lui che ci viene incontro e Lui che dobbiamo incontrare e qui ritorna anche molto utile il ricordo del pellegrinaggio che è metafora della nostra vita. Tutti possono essere in cammino, ha ricordato Monsignor Fisichella, ma se non c'è una direzione siamo solo degli erranti. Il pellegrino invece ha una meta, che la meta per noi è l'incontro con Cristo attraverso l'ingresso della Porta Santa, che è l'altro segno peculiare e classico del Giubileo. Come possiamo rendere visibili nella nostra vita, nella nostra storia, questi segni di speranza, ha concluso Monsignor Fisichella. Nel documento di indizione del Giubileo il Papa ce l'enca alcuni segni che anche noi siamo chiamati a rendere visibili. Ci dice di essere concretamente operatori di pace, ci ricorda che dobbiamo essere aperti alla vita, che dobbiamo essere capaci di accogliere, ci chiede di dare in qualche modo segni concreti a coloro che vivono in condizioni di disagio e povertà. Sono piccoli segni che però sono presenti ogni giorno nella nostra esistenza. Questo ci aiuta a capire che il Giubileo non sarà soltanto un annuncio di speranza, ma soprattutto un annuncio coniugato e reso visibile dai segni di speranza. Salvatore Martinez, già presidente del Rinnovamento nello Spirito, docente di teologia dello Spirito Santo, all'APRA di teologia etica e sociale alla LUMSA, ha posto l'accento sul valore della speranza. Abbiamo bisogno di essere immersi nella speranza come un battesimo, come quest'acqua che improvvisamente ci travolge. Noi lottiamo ogni giorno perché prevalga la speranza cristiana su tante speranze. L'evento di questa sera inaugura un viaggio che ci porterà a Roma pellegrini nella speranza. Ma che speranza poniamo in questo viaggio? Leggiamo le parole di San Paolo nella lettera ai Romani, la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è dato. Al termine del convegno Massimo Caponetti e Marina Venturini hanno illustrato ai presenti il viaggio verso la Porta Santa che porterà sabato 22 febbraio 2025 i pellegrini della nostra metropolia a Roma con un treno speciale da Pesaro e Fano in direzione San Pietro.